ci troviamo esattamente di fronte al palatino alla sinistra abbiamo il circo massimo e alle spalle il villino la vignola bocca paduli che ha due curiosità la prima è che viene chiamato in causa jacopo barozzi detto il vignola come ispiratore del villino cinquecentesco mentre probabilmente il nome si riferisce a un podere una piccola vigna completa di villino che il nobile prospero bocca paduli compra e lascia in seguito alla moglie ersilia come si evince dalla documentazione di marco baldobici nel 1762 la seconda è che il villino si trovava nel lato delle terme di caracalla ma fu abbattuto e ricostruito qui con qualche licenza dell'architetto pietro guidi nel 1911 nell'ambito di un progetto urbanistico che avrebbe dato vita alla passeggiata archeologica da qui ci si arrampica per una breve salita il clivus scauri la salita di scauro forse in onore di marco emilio scauro console e princeps senatus che in questo tratto prende il nome di salita di san gregorio dalla chiesa dei santi andrea e gregorio la cui facciata del 1633 ordinata dal cardinale scipione borghese è del romano giovan battista soria architetto che abbiamo già incontrato nella chiesa di santa maria della vittoria suo è anche il portico i terreni su cui sorge la chiesa appartenevano alla genza nicia che annovera nella sua stirpe figure prestigiose a partire dal console lucio anicio gallo un paio di imperatori san benedetto e santa scolastica da norcia san placido e tre papi tutti santi noi ci occuperemo dell'ultimo papa gregorio magno salito al sogno papale nel 590 alla fine del sesto secolo più per obbedienza che per convinzione si può considerare a detta degli storici l'uomo nuovo che apre le porte del medioevo intuendo i cambiamenti in atto come il distacco da bisanzio e la necessità di fondere la civiltà romana con i popoli cosiddetti barbari attraverso la dottrina cristiana uomo profondamente religioso si trova in mezzo a cataclismi di ogni genere tra l'incursione dei longobardi e la peste a roma narra la tradizione che durante una processione vide l'arcangelo michele sulla cima della mole adriana rinfoderare la spada segno della fine della pestilenza per la cronaca da allora la mole adriana fu chiamata a castel sant'angelo prima di allora gregorio abbandonando le cariche di amministratore imperiale si era ritirato nella vita monastica benedettina fondando sui propri terreni un convento che intitolò a sant'andrea e due oratori il più antico è quello di santa barbara costruito su preesistenze romane ma risalente tra il dodicesimo e il tredicesimo secolo che deve l'attuale forma al rifacimento di inizio seicento dovuto al cardinale cesare baronio l'oratorio detto anche triclinium pauperum la tavola dei poveri è privo di altare ma conserva secondo la tradizione il tavolo marmoreo dove gregorio ospitava i poveri dando loro da mangiare sul marmo è scolpita questa iscrizione qui gregorio sfamava dodici poveri e un angelo si sedette per tredicesimo la statua di gregorio è di nicolà cordie detto il franciosino proveniente dalla lorena e in basso riporta la data del 1602 stando a quanto scrive giovanni baglioni nelle sue vite la statua era un abbozzo di michelangelo buonarroti lasciata incompiuta che il cordie rielabora convertendola nella statua del santo la colomba fa parte della rappresentazione iconografica di papa gregorio e rappresenta lo spirito santo che sempre secondo la tradizione dava spesso suggerimenti al papa mentre la tiara papale o triregno così come la vediamo fu adottata da benedetto dodicesimo nel 1334 e quindi di regola san gregorio non avrebbe dovuto averla si tratta quindi di una licenza poetica le pareti dell'oratorio fu una frescata da antonio viviani da orbino tardio manierista detto anche il sordo per via di una malattia che oggi diremmo professionale che egli prese in dipingere sempre a fresco e stanno nell'umido dei muri a lavorare stando a quello che riferisce sempre il baglione sono databili agli inizi del seicento ai lati della statua inseriti in finte nicchie sono rappresentati santi flavia domitilla a chileo nereo e barbara tutti martiri tutti cari al cardinale cesare baronio tutti senza certezza storica della loro esistenza sulle pareti atti della vita di san gregorio sul fronte opposto apparizione della madonna e la carità del santo mentre nelle pareti laterali l'invio di sant'agostino di canterbury per la conversione degli inglesi la stessa missione di fronte al re del kent e del berto che si convertirà primo dai principi inglesi guadagnandosi la santità abbiamo poi l'elezione di gregorio ad abate del monastero quindi gregorio nell'atto di scrivere vale qui la pena di ricordare che fu un riformatore dei testi liturgici e del canto che da lui prende il nome e forse il più interessante e mantenutosi meglio l'apparizione dell'angelo alla mensa dei poveri abbandoniamo l'oratorio con uno sguardo al soffitto ligno elegante e composto ed entriamo nell'oratorio di sant'andrea dove la musica cambia baronio muore nel 1607 gli subentra poco più che trentenne il cardinale scipione borghese nipote di papa paolo quinto che è soprattutto un amante dell'arte collezionista senza scrupoli con ampia disponibilità di quattrini e una buona dose di arroganza di potere sistema il suo stemma con l'aquile e il drago all'interno dell'oratorio dissemina le sue bestiole dove può e si mette alla ricerca degli artisti con cui abbellire la chiesetta alla fine la scelta cade su due pittori in particolare i bolognesi Guido Reni e Domenico Zampieri detto il Domenichino quest'ultimo raccomandato da Annibale Carracci nonché di Giovanni Lanfranco da Parma e Giacomo Cavedoni da Sassuolo tutti usciti dalla medesima scuola l'Accademia degli Incamminati dei Carracci Annibale, Agostino e Ludovico il progetto del restauro vede all'opera l'architetto Flaminio Ponzio da Vigiu e la tela dell'altare inserita in un portico sorretto da quattro colonne di marmo è di Cristofaro Roncalli detto il pomarancio perché di lì originario e rappresenta la Madonna tra i Santi Gregorio Magno e Andrea Roncalli proveniente dalla scuola del manierismo toscano ma attento alle novità caravaggesche qui non appare particolarmente ispirato e salvo qualche buona pennellata nei volti di Maria e Andrea si limita a un ordinato compitino ai lati dell'altare due affreschi ben disegnati raffiguranti i Santi Pietro e Paolo riconoscibili il primo più anziano con le chiavi in mano e semicalvo e l'altro più giovane appoggiato alla sua spada che sono comunemente attribuiti a Guidoreni ma che potrebbero essere di Giovanni Lanfranco come i due affreschi della controfacciata che rappresentano un giovane inconsueto San Gregorio e sua madre Santa Silvia che è in mano il libro dei Salmi che riporta il versetto 175 del Salmo 118 vivrà l'anima mia e ti loterà e il tuo giudizio mi soccorrerà che pare essere il versetto voluto e fatto incidere sulla tomba della madre dallo stesso Gregorio nelle pareti laterali due affreschi che misurano circa sei metri per quattro simulano degli arazzi con tanto di finto gancio si tratta appunto dei lavori del Reni e del Domenichino e non si può fare a meno di notare le differenze narra un aneddoto riportato dal conte Carlo Cesare Malvasia nelle sue vite dei pittori bolognesi che Annibale Carracci preferisse il Domenichino allegandovi nel suo giudizio le osservazioni di una sciapita vecchiarella di fatti nell'affresco del Reni tutto è ben costruito armonico nel suo insieme dipinto benissimo ma senza pathos è un bello senza anima mentre nel Domenichino assistiamo a un dramma che si sta svolgendo dove tutti gli attori sono coinvolti dai carnefici al popolo agli uomini di potere ognuno con i propri sentimenti per farsi un'idea osservate questi due particolari e l'atteggiamento delle donne e soprattutto dei bambini passiamo al terzo oratorio che come ci informa la di Tascalia riscritta sull'originale fu costruito da Cesare Baronio e abbellito con il soffitto a cassettoni e con dipinti da Scipione Borghese nel 1609 già perché come abbiamo ricordato il Baronio nel frattempo era deceduto ma aveva comunque fatto in tempo a seppellire sua zia Marta morta alla veneranda età di 87 anni la chiesetta dedicata a Santa Silvia viene abbellita solo nella parte absidale con al centro la santa scolpita sempre dal cordier e ai lati gli affreschi di Sisto Badalocchio altro allievo dei Carracci che riproducono il re David con la sua arpa in quanto la leggenda lo vuole anche musicista e autore di salmi e il profeta Esaia con il rotolo delle profezie è una sega utilizzata per la sua condanna a morte secondo alcuni scritti apocrifi se si guarda il panneggio delle vesti e confrontandoli mi sembra evidente che gli affreschi del Badalocchio rispetto ai precedenti siano di una qualità inferiore la parte più interessante è forse l'affresco il concerto d'angeli nel cadino absidale qui l'attribuzione è controversa ma molto lascia supporre che sia Lanfranco l'autore magari su uno schizzo del reni in quanto il reni difficilmente avrebbe tollerato quel confuso assembramento di ali e quei volti di angeli molto terreni impegnati nel concerto l'ottima curiosità la dedichiamo al trombone che in quegli anni fa la sua comparsa in un'opera l'Orfeo di Claudio Monteverdi il 22 febbraio del 1607 anche se la primogenitura a Roma spetta a Filippino Lippi che sul finire del 400 lo immortala nella chiesa di Santa Maria sopra Minerva un saluto da Vintelano che ci vediamo e Grazie a tutti.